a quante stanno? a quante stanno? a quante stanno? a 5.000 5.000 ho detto? però non mi ha mangiato no, non mi ha mangiato, ma c'è una cosa andata Agatha de Rosa, ciao Agatha de Rosa, ciao Agatha de Rosa voglio fare qualche domanda? allora stai quasi in videochiamata con un ragazzo ah ce lo so, sei la numero uno e ce lo so, sei la numero uno oh grazie sei la numero uno, dai so non puoi, c'è un po' voglio fare qualche domanda? allora stai quasi in videochiamata con un ragazzo ah ce lo so, sei la numero uno e te lo so, sei la numero uno oh grazie sei la numero uno, dai so non puoi, siamo? siamo vieni già uno che mi ha mangiato, ma non puoi ora, grazie sei la numero uno vuoi dire, stiamo guardando, ti seguiamo grazie ciao ciao io la voglio nei Napoli perché ti sono antipagli? che io scherzo, ti voglio bene, adesso no no no, più c'è genio anche io se puoi scherzare aspetta aspetta via i don se ne è un se ne è un giudizio ma che è di pericolosi che si vive in una città no, prima di Ma tu voglio un caldo, si chiama. Ciao amore. Aspetta, fammi trovare l'effetto. Dove sta l'effetto? Come stai? Luca, grazie, sto bene. Prima stavamo parlando, si è levato tutto. Stavamo dicendo, mi puoi salutare questi miei amici? Certamente, perché da te lo salutavo. Allora, ti stavo dicendo Luca Matano. Luca Matano? Poi sta Daniele. Daniele? Eh, basta, sono solo questi. Ok, saluta a tutti. Comunque noi ti seguiremo ogni sera. Grazie, se ci dite. Ma perché non nemmeno cosa fa, quindi tu ci fai variare, capisci? Oh, aspetta, mi devi salutare. Come, non ce l'ha capito? Lo faccio variare? Allora, eh, sì. Saluta Antonio Zorro. Come? Non ce l'ha capito lì? Zorro, Zorro. Zorro. Saluta, saluta, Zorro. Sì. Eh, chi sei un amico mio? È compagno fidato. Ah. E' capito? È tutto più la storia. La storia storia. Non ho capito. Pure Emanuele Vale. Saluta pure Emanuele Vale. Saluta Emanuele Vale. Ciao, Emanuele. Saluta Emanueleài. Va bene, un bacio. Ti lascio prima. Saluta Emanuele, una partecipa. Saluta Emanuele. Saluta Emanuele, una partecipa. Saluta Emanuele. cavallo ciao cavallo oh monocchio non ti ho capito a te lo faccio a te lo faccio a te lo faccio a te lo faccio va bene bene non ti capisco non ti faccio rispondere a te lo faccio a te lo faccio a te lo faccio a te lo faccio Ma chi è il diretto? Lo so Chi è? Tutto a posto Chi sei? Chi sei diretto? Come ti chiami? Come ti chiami? Diego Armando Ciao Diego Armando Ah sei maratona? Il figlio Ah mi fa piacere Mi fa piacere Senti scusa la scomparsa di tuo padre Ho giocato gli ansi Non parlo più No sto piacere perché hai detto una brutta cosa No con due gianze Senti Con due gianze Grazie Ah cosa Che davvero Hai detto bene Come stai tu? Tutto bene? Sì tutto bene Grazie Sei famosa lo sai? Ho capito? Sei famosa Grazie Grazie Però anche tu sei famoso Ah sì? No Perché tu Un padre famoso Un padre famoso È il giocatore Hai capito? Lo so Lo so Lo so Lo so Però ti dico una cosa Però se Trovate Sì Hai capito? Non fa niente Non fa niente No No ma che hai capito Trovate Ma voi non ci stavi Sì 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 Hai capito? Ma io gli spiegavo Facciamo una cosa Fai un ballo per me E che ballo Voglio Ballare? Che ballo A piacere A piacere tuo Va bene Aspetta un attimo Sì Ma ti dispiace Ho capito Ti dispiace Che balli? No No Aspetta un minuto Sì Vai Vai Ora solo un minuto A fa Va bene Va bene Vai che sei una Grande donna Vai Sempre Moscia Vai 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 Brava Vai Così Grande amore Grande E' bravissima E' bravissima Vai così Va bene così Di più Grande 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 Va bene così Sì Va bene Sì Sei stata forte Dai Ok Un bacio da Bumbu Tutta la tua Buongiorgia Sì Ciao Grazie Ciao Ciao Bumbu Rosaria Rosaria Mi senti? Sì Ma perché ce l'hai con me Che ti ho fatto Non mi fatti dire Non mi fatti dire Non mi fatti Ecco Perché la lagga D'agite Neutoviciamo E' fatta una faccia Tutta Hai capito? Cosa ti serve Adesso E dici Dici Qualcosa Perché hai fatto Facciamo Un po' A pazzo Perché Dimmi Dimmi Perché hai fatto Un po' A pazzo Faccio A pazzo Che hai fatto Inoltre Non mi fatti Non mi fatti Hai detto Poi E' Sto Raffer Voglio Non mi fatti Tu sei da parte Siamo Un po' Siamo Poi Domande Io ti posso Rispondere Buongiorno 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 Sei grande. Ah grazie. Quanti anni hai? 39. Bello. E tu? 45. Io? Però la vostra domanda sei un po' buono. Bello, bello. Perché? Come ti senti di 47? Mi senti troppo bello. Ah piccola. Di dove sei? E tu? Amore? Ci sei? Non ci sei più? Susi. Rosaria. Oh ciao. Tutto a posto, Rosario. Sì, tutto a posto. Rosario, io sto con un paio di amici miei, mica li puoi salutare. Che d'altro salutare? Uno si chiama Michael Pitolano. Pitolano. Poi un'altra Checca. Checca. Pocchia. E poi? E non li salutare. Questo si prendeci. Saluta. Oh saluto tutti i amici. Che li hai detto? Un passo di ambo. E poi? Bumbo! Ciao, bella! Ma tu sai che chi è la devarietà con il neo Fichi Maradona? Ho già capito! Killer, non è un Fichi Maradona! Allora, saluta che cacatone, per favore! Ho capito! Puoi salutare a che cacatone? Vabbè, saluta che cacatone! Vabbè, le Bumbo ci vediamo la prossima volta! Vabbè, ciao! Ciao! Buonasera, chi c'è in diretta? Buonasera! 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 Sbambulù! Ma Rosaria, ti vediamo un po' tesa, come mai? E sto meglio! Sbambulù! Ti vediamo un po' tesa, perché? è proprio così tesa ha detto questo ragazzo ti vuole conoscere ti vuole conoscere questo ragazzo però ha 20 anni non fa niente ti voglio mettere in giro 20 e c'è anche un figlio ti voglio mettere in cinta c'è anche un figlio mica puoi salutare il figlio Rosaria mica puoi salutare la figlia Rosaria ma come ti chiami? Rito 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 ah Rito Gulo Gulo Rito Gulo e che strano nome? è un nome straniero sono africano un nome personale è un nome personale sì perché non ti piace il nome Rito Gulo? sì certo non sono Gulo però però non solo un Gulo non solo un Gulo non solo un Gulo Rito un Gulo dipende dalla situazione e quindi che domande vuoi fare? che domande vuoi fare? quante volte lo hai preso? ok stacco quando fanno così stacco? come a te mi vediamo mi vediamo ho come un po' di queste domande buona sentita bentornati come stai? bene grazie e tu? sei bellissima grazie vuoi fare un saluto? senti a me come ti chiami? vuoi salutare a Tonino Wortsan? non ho capito? scusa vuoi salutare a Tonino Wortsan? Tonino Wortsan? vabbè sì dal buvero Donino Wortsan ciao dal buvero dal borgo dal borgo saluto da bubu da bu Tonino Wortsan? bu ma dimmi una cosa ma che nome è strano sarà questo che è un ragazzo? sì è un signore ah un fiore un signore mio Dio speciale bu bu o dimmi ti ha visto e sei innamorata di te ti ha visto e sei innamorata di te naturalmente ti ha visto si è innamorata di te ah speciale speciale bello che fai scusa? io di Sant'Anastasia non c'ho capito Sant'Anastasia ah ti ha mai affanno un giro dove capicchiamo io sono qui di Roma ah bello Roma perché se lo tu c'eravò non c'era torre ma tu c'eravò ma è Roma sì come ho salutato pure a Maurizio va bene ciao Maurizio sei innamorata di te pur di stato non ci posso fare a nessuno contatto tu hai che tutti quando si innamorano ah allora si innamorata lei brava si innamorata per te 24 ore dai stai a posto tutto a posto meno male quando carichi no reddito non c'è capito quando carichi no reddito ai non c'è capito è 27 ah ah scusa perché posso per me perché tu non c'eravò no io non voglio perché stanno facendo rinde domande tu sono asciutto ah eliminavo credo quando vengono non vengono io non voglio ah perché allora non è te perché subra ah subra eh ah quando subra vengono mila allora subra di nove bravi tenge tenge patatini oi samaset tenge patatini bubu samaset bubu mancate ne sott vengono nascar darai e come mbe ne mai mancate sott sai bu mancate il bu mancate 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 onibon ah nascate o da ud netter sacco bubu apiccate mancate patatini mancate bu e patatini poco poco sapare in bravo a me già abbiamo riuscito bravo, cazzo morto ah veramente cazzo morto 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 ma quando fai diretti con bambolini eh cazzo cazzo morto non ho stato ancora ma dopo sapere tu avvisi sempre che abbiamo che seguì ah sempre se quando un bambino non ho fatto sapere non ho fatto sapere ah voglio sapere siamo tu capitano chi è un capitano? ho namorato tu? no e chi è? Giuseppe da Cuncio no non ho fatto a piccola bu bu però ma già sta cagliarissimo annaccia cardarello annaccia cardarello vengono al gaffa non bacio ciao ah bella ciao no bu 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 mi sta card i sono staggato o fa il saluto Si chiama Ritangano però. Come? Ritangano. Ciao Ritangano. Sì, ma mi fanno un balletto. Cazzo fa? Un balletto, un balletto ho fa. Papusciano che stavano in noi. Che bella che tezzo fa? Non lo so, c'è un po' papusciano. Ah, è altro che ha papusciano. No, un po' is. Ah, raggio, pigiamo. Bum bum. Bum bum. Ciao. Te lo sto dicendo da una vita, accettami. Ah, ti sto accettando. Eh, finalmente, come stai? Tutto a posto, grazie. Comunque ti seguiamo tutti quanti, tutti qua dentro, minimo 15 persone sono tutti amici miei. Grazie, mi fa piacere. Ma noi ti seguiremo ogni sera, tu metti le storie che noi ti seguiamo, ma vediamo quando fai la diretta. Capito? No, è me che sto. Eh, tu falle, ti raccomando. Oh, ma che pesce? Io, noi siamo di Caserta. Ah, allora, che si dica casettata? Eh, mi vuoi salutare? Tu casettata, che è venuto un po' faccio apposciato. Oh, facciamo una cosa, mi vuoi cantare una canzone in napoletano? Ah, credo, è un problema, Maria. Eh, allora, io ho due richieste che ti devo fare. Oh, dimmi. Allora, una è se mi canti una canzone in napoletano. Dai. E due, mi devi accettare un mio amico che sta nella videochiamata, se puoi. Dopo, quando stacchi con me che mi canti la canzone, fai entrare nella videochiamata Iorio Fulvio. Iorio Fulvio. Iorio Fulvio si chiama. E ora mi vuoi cantare una canzone in napoletano di Gigi D'Alessio. Una che sai, una che sai, una qualunque. Allora, stiamo a stare in tuo pisano, non so che cosa fare. No, no, allora, tu lo sai che devi dire? Ti ha detto questa canzone a tutti i ragazzi di Caserta. Vabbè. Vai, Bumbu, io ascuto a te. Tengo pure la cuffia, vai, ti sono a stendere. Questo non è stato stressato. Io non mi dobbiamo fare. Io non mi dobbiamo fare. Ma che è il tuo posto? E no, fai un cazzo, un cazzo, un cazzo, un cazzo, un cazzo, un cazzo. Un attimo solo. Vai, tranquillo, perché c'è la gente che ti prende in giro. Io ti sostengo. No, non ti preoccupare. Non mi ti giro nessuno. Stiamo facendo... Perché stiamo... Rosato. Siamo amici. Guarda, guarda a me, Rosato, guarda a me. Aspetta, vai giù. Vai, vai, canta. Grazie a te. A te. Capà. Va bene così, va bene così, va bene così. Grazie. Allora, ora però mi devi accettare ancora l'amico che ti ho detto io. Va bene. Allora, però accetta Ioro Fulvio, per favore. Ma Ioro che è? Ioro Fulvio. Ma per mandare la ripiesta. Te l'ho mandata, te l'ha fatta mandata, te l'ha mandata. Ah, l'ha mancata? Eh, siamo tutti quanti, stanno tutti i miei amici qua dentro. Va bene. Va bene, un bacio. Ok. Ci vediamo domani sera. Ok, ciao. Va bene, ciao amore. Grazie. 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 Grazie a voi. Mamma mia che pozione. Anche a me. Che stai facendo, lo sa? Una bella diretta. Ah, la vita in diretta. Ah, dimmi una cosa, quanti anni hai? Io? Secondo te? 40. Uccia, ma è cisto, lo sa? Perché ti ha giustizio? Ma è ferito, ma è ferito. 35, lo sa, 35. Oh, complimenti. Grazie. 29 e 36. Non siamo c'è insieme. Ma si vede una volta. Tu quanti anni hai? 25. No, è anche 39. Ehi, 39. Ah, non mi chiede. Aspetta. Ha giornato 4 giugno l'81. 88. Oh, quanti? 4 giugno? 81. 41. 81. Ehi, in matematica, non ho pure. 19. Ma c'è capito che hai detto. 39 anni, chiede lui. Ehi. Ti è scosato? Io, divorziato. E come mai? Tengo 4 giugno. Sì. Ma c'è capito che hai detto. No, ma la moglie non mi ha detto. Ma il cuore. Ma il cuore. Ma il cuore. Sì. Tu vuoi dire, non c'è capito. Dici, dici. Chi è qua? Sono chi? Dici, non so. E mi è qua. Perché ti ha lasciato la moglie? Aspetta. Aspetta. Rosa, ci sei qui? Sì, ci sono, ti. La giugno è tornata prima, grazie. Ma hai capito? Ma hai capito? Secondo me è una scuola. Ma hai capito? Io si sono affaticato. Eh. La sera si è tornato affaticato. Si è tornato affaticato. Eh. Zitto, zitto, la sera. E mi ha fatto il servizio. hai capito che dice dei figli tuoi che fa i tuoi figli che dice dove sta con te no stanno con me stanno alla casa con me mamma la vanno per chiù dopo ci saranno con te però che la stai mamma che la stai mamma questo è il mio figlio che non l'ha che la fa non l'ha che la fa però lo sa secondo me scherzi tu che così sei fatto no che non ci fai io volevo tanto bene soldi che ci darei se ne ha passato mancano non ce ne mancava niente lo sa dove ci vuol dire non ci ha buttato la maga la zucca ah quando ha buttato la maga ha buttato la zucca come sta a rire hai capito o no quando è la figlia mi ha fatto il biscotto ah mi ha fatto il biscotto vabbè ha ciuffato il biscotto non ci ha fatto il biscotto però oggi in tutto ci ha detto sia esse che è isso ah non ci puoi dire proprio eh 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 è il dono è il dono è il dono quando hai figlio? tu mesi esplosati? sì, io vedo vedo ah mi dispiace stavo andando io non vi ho un figlio ah che fai? non stai dando pò ti dovidio? ah mi dispiace non ho un figlio non ho capito 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 non ho 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 capito come ti ha fatto il pagamento? non ho capito non ho capito ogni tanto ogni tanto quando arrivo l'usica ah mi dispiace non ho capito non ho capito La pastina con gli uovo faccio mangiare. La pastina con gli uovo. Con gli uovo, con l'uovo. Ah! Beh, si faccio mangiare un... ...o il prosciutto. Allora, due panini. Che t'hai mangiato, non lo sai? Un panino con il prosciutto. Ah, è pasta. E la pastina con gli uovo. Ah, sono qua... ...dipendita. Non si capite, che ritro. Ah, sono qua. Adesso non ho avuto l'uovo. Ah, è? No. Adesso non ho avuto. E tre o il quattro. Dipende. Adesso non ho fatto il prosciutto. Ma non sono? No, è così. di riscaldamento a picciare. Ah, l'ho detto, l'Europa va volando. Noi immaginiamo nessuno. Ah, a che paese sei? Ii, le casette. Ah, e il casetto? Ah, per favore, il casetto, un casetto, un casetto, un sacco. Sì? Ah. Eh. E ora, fai capire, non sei fidanzato, amore? No, no. Dice la vedità. No. T'ho detto con le figlie. Ah, già batte la figlie, mamma mia. Eh, è una maggiola bella, non batte, non è fidanzato, mamma mia. Boste, boste. Ah, fai. Dice la vedità. È questo che stava givanti qui. È questo che stava givanti qui. No, o capitale. tutti. Chi è? Si chiama Giuseppe Ragutti il capitano. È chi? L'amore di lui? No. È che per favore. Lo sono giro a giro il figlio, mante. Ah, 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 ah. Ah, questa facoltà, un sacco di freddo, ma se ti sei. E che stava facc recording? No. Ma che la mia moglie, la mia moglie. Ah, la mia moglie. Fai vedere, fai vedere. No, se mi disculpe. Ma che scuro, signora? Non si mi disculpe. No, non si mi disculpe. Ma che cosa mi disculpe? Oh, casetto. Parlamola di cosa? Allora, il marito si è fidanzato. Io non sono fidanzato. Inizialità, sicura? Io sono proprio così, libero e dipendente. Ah, indipendentemente? Indipendentemente. Brava. E come facciamo i miei fidanzai e te allora? Sono mia fidanzai. Ci vogliamo fidanzare? No, no, no. Sono messa in casa. Oh, ma ora siamo con il suo. Oh, no. Chi è? Che succede? Dici, dici. No, ma ora siamo con il suo. No, no. Non puoi dire che... Ah, ma poi ho fidanzato la cosa. E ci conosciamo più approfonditamente. Nooo. Ecco la cosa. Ah, beh. E quanto? E quanto vuoi tu? Tu dove sei? Dove abbi? Io. Sono creato la Torre Annunziata. Ah, faccio l'idea. Ah, faccio l'idea. Non è proprio, proprio. È proprio l'estremità. E faccio l'idea. Capito? Tu. Che fa? No, niente. No, niente. Stiamo scherzando. Ah, che fa. Stiamo pazziando. Stiamo pazziando. Stiamo pazziando. Stiamo pazziando. Oh. 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 Eh, ma dimmi una cosa. Ma che cosa non ti ha duputo? Chi? Chi? Ma? Chi si è parlato prima di me? Eh. Eh, mio nipote? Oh. E' il figlio di mia sorella. Ah, pare simpatico. Ma è brava ragazza, è educato. No, è tu sei detto amore, è educato. Ma è la prima cosa che ti ha duputo quattro secondi. Perciò l'ho imparato io, perciò? Ah, perciò? Ah. Se non ti ha duputo quattro secondi. Ah, ma è che ti ha duputo. Ma... Ma... Ma sei tutto a cuoricino, Rosario. Ah, tutto a cuoricino. Sei la mia cuoricina. Cuoricina del mio cuore. E tu lavori cosa? Che fai lavori? Non lavori. No? E come c'è? L'ho imparato io, Rosario. I campi con papà e giù dei figli, ma... Ah, mi ha detto... E' un po' di rifiuti. Si. Imparo di sviluppo. Ah... Ah, perché la mia data te è un euro, Rosario? Quando? Mille euro. O tu si arrivi. Ah, che ruede cittadinanza? Ah, come ho piggio per tu? E' un pochino piccino. E' un pochino. Ah, e' un pochino. Bene. Allora di mio poste? Ignazio. Beh, cimitero. C'è ancora un posto tra cimitero. E' un posto di cimitero. E' me lo tengono pagati. Ah... E allora... Adquest connaissance o no ? Aia, poi! Ehi, son. Ehi! In barrio di una cosa, di una delizio. Indie come? Dicili? Tenere no. Ah, quando io tutto andare in te. Che ti affrono? A me che ti mangio. Oh, io mangio tutto il cuoco. Pure l'osso? Pure tutto il cuoco. Pure lo scorso. Pure lo scorso. Bravo. Bravo. Bravo come metto. Ti tengo un tappacchino e un barro. Cosa hai detto? Ah, allora sei proprietario. Eh, bravo. Tengo una concessionaria. Con mio fratello. Associata con mio fratello. Mi fa piacere. Ma non mi scherzzi a me. Stiamo pazziando. Però mi fa piacere. Sto parlando sempre. Eh, lo so, lo so. Che cosa fai? Vedi tu. Ya, va. Oh, io ti sento. Vedi tu. Senza pazziare. Non parla seriamente. Quando non lo pazziare. Quando dobbiamo scherzare o non scherzare. Ma sei. Io sto scherzando. È giusto mi scherzare. Ma adesso... Ma sappa, la che non è? Settiamo. Coppa questa gamba. Eh. Non è giusto mi che lo sanno. Ma non lo sanno. Mi ha fatto il tuo numero di telefono. Eh. Ma tu scrivi in privato. Perché l'ho con coppa non è buro. È privato. Allora... Sto parlando sempre. Quando stacco te lo scrivi, va. Eh. Quando stacco te lo scrivi, va. Va bene. Eh. Ma che stai a fare? Stai a chiacchierare? Sì. 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 Ma no. Ma fumi pure? Ah ah. Ma va bene allora. Perché? Il fumo fa male. Perché? Perché? Il fumo fa male. Ma perché tu non fumi? No. Le sigarette no. Eh. Perché tu fumi? No. Le sigarette no. Eh. Perché tu fumi? Trick Addrack. Ah no. Trick Addrack. OK. E' un buon giorno. Mi sta troppa gente sentire. Ok. Ok. E noi ci vediamo in privato. Va bene? Eh. Va bene. Ciao Rosanna. Cucciolotta. Amore. Ah. Ricciolore. Grazie. Ciao ragazzi, saluto da Bambu, io vado a dormire, ci vediamo alla prossima diretta.